Buonasera, è infuriata per tutto il giorno la battaglia sulla decadenza. La decadenza è quella che tutti sanno di Berlusconi dal Senato. Oggi bisognava decidere nella giunta per il regolamento del Senato se votare su quella decadenza a voto palese oppure a voto segreto. Ebbene, ancora non si è riusciti a dipanare la questione e si è andati passati alla sospensione della giunta. I lavori sono proseguiti in aula. Si è votata anche una richiesta del Movimento 5 Stelle di votare in aula il 5 di novembre. Proposta è bocciata, quindi si arriverà alla fine di novembre o addirittura all'inizio di dicembre. Nel frattempo però non è ancora ripreso il lavoro della commissione. se andrà avanti in nottata, probabilmente si voterà domani mattina sul filo dell'incertezza tra voto segreto e voto palese. Chiari quali sono i sospetti dell'una e dell'altra parte. Ma il fatto nuovo è che il governo, con una nota attribuita a Palazzo Chigi, non ufficiale, dice che dal 2 ottobre, da quando si è votata, la fiducia al governo e la spallata che Berlusconi non è riuscito a dare, i destini giudiziari di Berlusconi e quelli politici del governo si sono separati definitivamente. Quindi quale che sarà il verdetto non influirà sul governo. È la risposta indiretta ma è dura al fatto che, evidentemente, è stato evocato anche in queste ore, se decade lui, cade il governo. Non sarà così secondo Palazzo Chigi. E contemporaneamente è emerso, non a caso, forse un documento che sarà varato dalla componente Alfano, per intenderci, per il Consiglio nazionale del PDL dell'8 di dicembre. Puntiamo, dice Formigoni, addirittura alla maggioranza, a convincere Berlusconi stesso a finire sulle nostre posizioni. Chiaro qual è il punto di rottura, ma del resto c'è anche tensione sulla legge di stabilità, il famoso Cuneo, i famosi 14 euro. Ci sono le bacchettate della Banca d'Italia e anche della Corte dei Conti che dice, attenzione, è ingiusto poter fare questa operazione a favore dei lavoratori dipendenti, ma non di tutti gli altri del comparto del lavoro che ne sono esclusi. E Banca Italia contesta anche le cifre per quanto riguarda la somma che poi viene divisa in quei 14 euro. Ci sono difese del Ministero del Tesoro, ma anche sulla scorta di queste cose la richiesta di sfiducia nei confronti di Sacco Man presentata dalla Lega. Poi ci sono il PDL che non manca mai di dare notizie di sé, Grillo che è andato a vedere anche la votazione di cui vi parliavo prima al Senato e tante altre notizie, compresa una clamorosa novità sul DataGate. Tutto tra poco. 30 secondi, i titoli.